Politiche e pratiche di riqualificazione urbana e territoriale focalizzate sulle aree degradate nel segno di una partnership strategica tra istituzioni, imprese e semplici cittadini. È l'idea alla base del Bando Infrastrutture Verdi, voluto dalla Regione Puglia e per il quale è in campo una proposta di partecipazione da parte della città di Andrea. Non una partecipazione voluta solo dalla politica ma una partecipazione condivisa con il territorio e con le istanze del territorio stesso. Cercare attraverso l'elaborazione di un'idea di recepire le istanze, le proposte, i suggerimenti che possono poi portare ad un'elaborazione progettuale, partecipare quindi a questo avviso relativo alla mobilità sostenibile, alla mobilità green e quindi alle reti verdi infrastrutturali che possano consentire alla comunità di Anima, all'intero territorio, di ricevere finanziamenti per riqualificare in modo sostanzioso tutto ciò che è possibile riqualificare avendo un'idea di fondo che è quella di favorire la mobilità green e quindi la mobilità sostenibile. Proprio su questo si è basato il convegno svoltosi ieri ad Andrea e che ha coinvolto proprio cittadini e di diversi enti in campo per costruire la rete di partnership. Riciclando attraverso il paesaggio murgiano è l'idea alla base del progetto che vede tra i partner più importanti del comune di Andrea sia il parco dell'Alta Mursa che il polo museale con in particolare il Castel del Monte, oltre al comune di Corato, enti che assieme hanno già sottoscritto un protocollo d'intesa. Il parco si è fatto promotore mettendo insieme due comuni proprio perché in sede di comunità del parco è emersa la necessità che una strada fosse presa in considerazione per la riqualificazione e insieme abbiamo pensato di proporci alla regione per usufruire di questo bando e per ricevere dei finanziamenti che potranno dare una riqualificazione a questo territorio partendo dalla zona urbana, quella periurbana, soprattutto poi la campagna, quindi attraversando il parco e arrivando fino alla strada di San Magno per collegarsi poi a Corato. Un percorso naturalmente molto complesso che ha posto ieri una prima pietra miliare e che vedrà l'importante coinvolgimento anche dell'ex assessore regionale all'assetto del territorio nonché docente del Politecnico di Bari Angela Barbanente. Che noi abbiamo bisogno di operatori economici, abbiamo bisogno di operatori culturali, abbiamo bisogno di chi gestisce l'agriturismo, il bed and breakfast, tutti questi si devono sentire attivamente coinvolti perché se noi miglioriamo la possibilità di fruire di questo territorio poi sono loro che riescono a dare delle risposte a chi chiede anche accoglienza, a chi chiede e no gastronomia di qualità eccetera eccetera.